L'arte del disegno, mi avete chiesto la recensione e io ve la faccio. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Sì, oggi parliamo della collana a fascicoli, l'arte del disegno, che hanno lo scopo di insegnare a disegnare. Parliamo proprio dell'arte del disegno di De Agostini. Tempo fa vi avevo pubblicato un post su Facebook, ma vi parlo di tantissimo tempo fa, in cui vi segnalavo l'uscita numero uno di questa collana. Ve la segnalavo soprattutto non per i contenuti specifici in esso all'epoca, perché non li conoscevo, non li avevo ancora visti, ma ve le segnalavo perché allegati all'uscita della collana c'era l'ambaradan per costruire la griglia, delle matite, la gomma pane, mi pare ci fosse, dei cartoncini. Insomma, era un kit abbastanza ampio che valeva ben più del costo di emissione del fascicolo. Quindi ve l'ho segnalato per potervi accaparrare una serie di strumentini da lavoro che fossero buoni, perché sono della Faber-Castell, quindi una buona marca, e che vi consentissero di ottenerli pagandoli di meno che se foste andati a comprarli in cartoleria. Adesso invece, poi, da quella foto scatorì tutto un dibattito su Facebook sull'idoneità di questi corsi a fascicoli di disegno e molti di voi, ricordo soprattutto il commento di Irene, mi chiesero se fossero carini da avere, se fossero utili, se potessero in qualche maniera insegnare a disegnare veramente. Cosa è successo? Quella sera stessa io mi misi in contatto con la di Agostini, mi presentai, feci presente che avevo il canale Arte per te, e feci presente che tenevo il corso di disegno su Facebook, e chiesi se potevo entrare in possesso della loro opera. Fui contattata da un funzionario di Agostini che fu disponibilissimo a mandarmi l'opera. Unica cosa che me l'avrebbe mandata come la mandano a casa alle persone che la comprano, quindi di volta in volta a fascicoli. E insieme ai fascicoli, di volta in volta, mi arrivano anche tutti i gadget che sono allegati all'uscita. Quindi, che ne so, il quaderno da disegnatori, il manichino, e con sette uscite io già ho racimolato tutto questo po' di roba che sto mettendo da parte perché alla fine, quando le avrò tutte, voglio regalarvele, almeno non vi regalerò tutte le uscite perché mi serviranno per lavorare anche con voi, ma vi regalerò tutti i set dei gadget che mi arriveranno così che anche voi possiate godere di questa collaborazione che non è una collaborazione perché la De Agostini non mi paga, assolutamente non mi paga, mi ha semplicemente omaggiata, mi sta omaggiando nel tempo delle uscite dei loro fascicoli. E io li ringrazio per questi, perché per me è per questo, perché per me è già tanto, piuttosto che avere io l'onere di dover comprare, sempre tutto, che vi venga fornito il materiale per poter soddisfare le vostre richieste, per me è già un grande aiuto, quindi non mi pagano e soprattutto sono stata molto chiara con la De Agostini, avrei utilizzato ciò che mi mandavano solamente se mi fosse piaciuto e ho chiesto anche il permesso naturalmente per farvi vedere stralci dei loro fascicoli e per parlarvi, ne sono stati disponibilissimi, mi hanno detto che posso fare in pratica quello che voglio e di conseguenza è proprio quello che andrò a fare. Adesso spostiamoci sul piano da lavoro perché voglio consigliarvi innanzitutto come fruire di questi manuali per poter estrapolare al meglio quello che c'è inserito in questi manuali, che è davvero davvero tanto. Spostiamoci sul piano da lavoro e vediamo cosa ho da dirvi. Ed eccoci qui per imparare a fruire nel miglior modo possibile e vedere se ci piace la collana L'Arte del Disegno. Allora, innanzitutto vi ho già anticipato nell'intro che io ho sette uscite, le prime sette, e con le sette uscite mi sono arrivati i relativi gadget, quindi dal manichino al quaderno per gli artisti, quindi un quaderno su cui fare gli schizzi, cose che io non sto aprendo perché sto conservando tutte per voi, e poi una serie di carboncini, la sanguigna, il pastello bianco e la gomma, colore a matita, altro colore a matita e questo penso sia un pastello, poi matita, gomma pane e altro colore a matita, tempera a matite e due colori, due matite a grafite, insomma, poi sette di fogli da disegno, cartoncini da disegno, e poi la cornice per fare la griglia, quella anche per dipingere dal vero, non soltanto da disegno, che comunque vi spiegherò nei prossimi giorni. Allora, costo dell'uscita circa 7 euro e qualcosa ognuna, dopo la terza uscita, perché le prime tre costano di meno, vale la pena spendere questi soldi? Allora, dal punto di vista, adesso andremo a vedere ciò che c'è all'interno, ma dal punto di vista pratico facciamo un ragionamento, una lezione di disegno da un professionista, quanto costa? Certo molto di più di 7 euro e 90 l'ora, e qui avrete tutto scritto, tutte quelle che sono le nozioni che vi occorreranno, vi rimarranno sempre scritte e a vostra disposizione, non si esauriranno nel ciclo di una lezione teorica. In più, il corso di disegno scritto può essere lasciato e ripreso in qualsiasi momento, quindi è a nostra completa disposizione, anche in termini di tempistica. Chi come noi lavora, fa tanto altro, magari non ha sempre il tempo di andare a iscriversi a un corso e seguirlo correttamente, quindi è dedicata a tutte quelle persone che è della loro passione, possono ricavarsene attimi e non coltivarla pienamente. Allora, come tutti i corsi a fascicoli, si ha uno schema compositivo, come vedete nella copertina si dà la preponderanza all'insieme, quindi, per esempio, l'albero come tema, l'uscita numero uno e poi le varie cose che contiene il fascicolo, gli strumenti di applicazione come usare la griglia, la prova di disegno con la griglia e gli esempi dei grandi maestri. Tutte le uscite sono divise tutte nella medesima maniera. Sfogliamo la numero uno insieme. Innanzitutto, la presentazione di Gaspare De Fiore, un grandissimo architetto e pittore che ha curato la messa in essere di quest'opera. L'indice, quindi qua potete farvi un'idea di quello che contiene il vostro fascicolo. Sfogliamo. In alto troviamo la prima fascia che dice, dà gli strumenti all'applicazione e vi parla di quello che nel fascicolo viene regalato. In questo fascicolo veniva regalata la griglia, la matita blu, la matita nera, i fogli di cartoncino. Tutti i gadget, tutti i compendi pratici, cioè tutti i materiali sono della Faber-Castell, quindi sono comunque di una marca buona. E vi descrive i vari strumenti, quindi qui c'è la prima fase cognitiva, ah, c'era anche la gomma pane, qui c'è la prima fase cognitiva di quelli che sono gli strumenti del disegno. Un po' come quando io vi faccio le lezioni, vi ho fatto la lezione sull'acquarello per farvi conoscere tutti gli strumenti che ne fanno parte. Naturalmente nell'opera viene fatto a scaglioni perché ogni uscita vi danno dei materiali e ad ogni uscita allegano questa spiegazione per farvi conoscere i materiali. E poi delle piccole perle, per esempio su come impugnare la matita, proprio la BC. Giriamo il nostro foglio e qua vi spiega come montare la griglia e l'uso stesso. E molto spesso voi mi chiedete, ombretta, ma la griglia è qualcosa che viene valutata bene oppure è una cosa che non si deve usare. E qua vi spiega l'etimologia della griglia, appunto come nasce la griglia, come è il primo Leonardo ad utilizzarla nei suoi lavori e come egli la utilizzava. quindi anche delle connotazioni culturali su quello che poi sono gli strumenti che voi adoperate. E poi prende ad esempio un soggetto, in questo caso l'albero lo scompone in griglia e quest'opera fa molta scomposizione geometrica, quindi semplifica le forme nei loro geometrismi per poi svilupparle. imparerete quindi anche questo e vi fa vedere, sempre con gli strumenti, perché questa è tutta la parte dedicata agli strumenti che vi dà il fascicolo, vi fa vedere come arrivare al soggetto anche attraverso, vedete, i vuoti, cioè vi fa colorare tutto lo sfondo e lasciare solamente la traccia del soggetto. Questa nozione la trovate anche nel libro di Betty Edwards, disegnare per contorni o disegnare per contrasti. Questo ve lo segnalo per farvi capire che non sono cose buttate lì tanto per caso, ma sono nozioni che trovate in più libri di storia dell'arte e di disegno. Poi una parte bellissima, ogni opera ha un esempio del maestro e qui vi traccia un po' in maniera molto semplificata e anche molto abbreviata, ma comunque esaustiva, la storia della pittura o del modo di impostare le opere di un artista. Nel primo fascicolo il protagonista è Van Gogh e poi la parte che interessa a chi vuole imparare a disegnare. Attenzionate sempre la prova di disegno che è la parte su cui voi dovete battere tra una settimana e l'altra dell'uscita. Cioè, sono in pratica i compiti che vi dà questa pubblicazione. Ogni settimana vi affida un compito. in questo caso è dipingere, non è disegnare, una composizione in griglia, prima in piano, poi su piani sfalzati, quindi su piani raggruppati. Vi fa sviluppare quindi la forma nella propria interezza, la forma nel rapporto distanziale tra l'uno e l'altro oggetto e le forme unite tra loro, quindi con cambi di chiaroscuri e anche cambi di forma, perché naturalmente di questo vaso non avrete più tutti i contorni, ma ne avrete solo una sezione e quindi vi fa valutare le porzioni da lasciare scoperte. Allora, un esercizio che da prima viene sviluppato solamente nelle linee e poi piano piano viene sviluppato anche nelle forme e nei colori. Vi dà anche la traccia su come procedere, ma se è seduitante per te questo lo sapete già, e poi vi dà alla fine una sorta di glossario su alcune parole che vengono usate all'interno del fascicolo, quindi natura morta, cos'è, cos'è il prospettografo, il segno sensibile, la silhouette, insomma, vi fa cominciare a capire quello che io molto spesso quando parlo vi dico questo in gergo si dice, ecco, il gergo artistico, il glossario artistico, quindi l'anticipazione del fascicolo successivo. Allora, innanzitutto considerazioni. io trovo questa un'opera abbastanza completa perché non tralascia nulla, non tralascia gli strumenti, non tralascia le annotazioni culturali, quindi le vite degli artiste, e ve le correla automaticamente a quello che vi insegna di tecnico, quindi vi dà la possibilità di capire all'interno di un artista quelli che sono i caratteri, i principi della sua opera in relazione al vostro lavoro e alla fine vi dà un tot di tempo per esercitarvi. Come dovete fruirne? Voi comprate un giorno il fascicolo, quindi come prima cosa si parte dall'indice per avere un'idea di completezza di quello che è il contenuto. La prima cosa che dovete fare è capire a cosa servono le cose, quindi leggere gli strumenti e poi io, fossi in voi, balzerei subito a quello che è l'esercizio, tanto se avete visto gli strumenti avete visto anche come si monta la griglia. Guarderei gli strumenti e poi passerei subito all'esercizio e comincerei a fare la parte più semplice dell'esercizio che è la composizione lineare. E su questo tema starei ogni giorno, un po' come facciamo sul corso di disegno su Facebook, quando io vi assegno il compito, voi ci lavorate lungo la settimana a più round e poi me lo fate vedere il giovedì sera. Bene, dovete affrontare nello stesso medesimo modo questo esercizio. Qual è la differenza? Che sarete voi i vostri giudici? I fascicoli poi si assommano l'uno all'altro. Nel fascicolo numero 2 conoscete la sanguigna, si parla ancora di Leonardo, conoscete la sanguigna e si parla di un po' di anatomia. E vi faccio vedere, è diviso esattamente nella stessa maniera, composizione di Natuna Morta, vi parla della differenza cromatica, quindi già si comincia a parlare del colore, altra composizione che però questa volta è negli strumenti di applicazione e quindi avendolo fatto la volta prima, questa volta sapete già di cosa si parla. E qui vi parla dell'esempio dei maestri, il grande Leonardo, andrete a scoprire voi se vi interesserà di cosa parla, fino ad arrivare a le sedie e i tre stili di sedia. E qui il fascicolo numero 2 si aggancia a quello che non avrete saputo fare sicuramente al fascicolo numero 1, il fascicolo numero 1, guardateveli, correlo. Mi insegna lo stile del disegnare tramite margini, o meglio, tramite i vuoti e i pieni. Qua ve lo insegna, quindi voi riprendete anche il numero 1 una volta che vi siete impadroniti della prova del disegno, quindi questo sarà l'esercizio per la seconda settimana, quando avrete finito di fare questo, ci saranno molte più possibilità che possiate fare anche quello al fascicolo numero 1. Quindi, questi fascicoli non si esauriscono con la loro uscita. non è che voi comprate il numero 1 la prima settimana e poi lo mettete da parte, dovete sempre tenerli a fianco perché si vanno compenetrando, sono la sommatoria dell'uno e dell'altro. Nel primo buttano l'amo, poi vi fanno fare un esercizio che vi servirà come base, poi nel secondo mettono l'esca al lamo che avevano messo prima, vi fanno fare l'esercizio. quindi andiamo al terzo anche qui c'è ancora il glossario quindi approfondimenti culturali sempre qui la sedia tra tante sedie quale vi scelgono quella di Van Gogh che già conoscete conoscete per stile e per stilema conoscete per opera conoscete perché ve l'hanno fatta conoscere loro sempre al primo fascicolo quindi c'è anche un consolidamento culturale. Vi faccio vedere tutte le uscite anche se sono interessantissime tutte ma vi ho fatto vedere un po' di uscite per farvi capire come quest'opera si usa a modifi armonica bisognerà sempre aprire il fascicolo numero uno numero due numero tre prima di passare ai successivi e soprattutto quando si arriverà ai successivi ci sarà data la chiave di lettura di alcune particolare giature magari del primo e allora è un'opera che si fa a più livelli livello base facciamo le prove di disegno andiamo avanti prendiamo gli approfondimenti culturali e studiamoli attenzione al glossario conosciamo le tecniche materiali acquisite tutte queste cose quindi una volta avute tutti i fascicoli arrivati quindi all'ultimo avremo una conoscenza di materiali di stili e di tecniche valida per poter riprendere il fascicolo numero uno e vedere cosa non eravamo riusciti a fare naturalmente cosa comporta questo passione costanza tenacia e voglia di farlo la stessa identica cosa che comporta un qualunque corso e allora la sintesi il corso di disegno di Agostini funziona sì se siete voi a farlo funzionare se siete se sarete voi ad avere la voglia di portarlo a termine questi corsi non funzionano molto spesso perché sono lasciati alla libertà dell'individuo innanzitutto la pigrizia di andare in edicola ogni volta a prenderlo per questo Radio Agostini ha pensato anche con delle agevolazioni economiche a un abbonamento per cui vi arrivano le cose a casa direttamente e questo potrebbe essere un gap superabilissimo quindi e in secondo luogo poi la voglia di stare lì almeno un'ora al giorno a leggersi una pagina no un'ora no 10 minuti al giorno a leggere una paginetta diversa perché veramente i fascicoli sono brevissimi sono 20 pagine quindi due paginette al giorno due facciate al giorno in una settimana ve li fate fuori e poi la costanza quella importante di allenarsi nella prova di disegno per le mie conoscenze posso dire che è un'opera valida che sul mondo del disegno del principiante può portare grandi miglioramenti accostata al corso di disegno di arte per te poi aiuta veramente molto bene spero di essere stata esaustiva quindi non ve ne andate se non siete ancora stramazzati a terra perché ho ancora qualcosina da dirvi avete visto un manuale completo che va letto a momenti diversi un po' a fisarmonica ad andirivieni diciamo così sicuramente gli esercizi da svolgere sono la parte fondamentale di ogni fascicolo su quello poi potrete lavorare e tornare indietro per sommare le acquisizioni che avete estrapolato dei fascicoli i compendi culturali fanno sempre bene il vedere come si possano sviluppare le varie tecniche è una cosa ottima naturalmente poi il fatto di approfondire come vi ho dimostrato nel corso di disegno su facebook sta soltanto alla vostra capacità di sedervi concentrarvi ed allenarvi non c'è nessun tipo di escamotage nessuno vi potrà fare diventare dei disegnatori se non vi mettete lì con la matita in mano a provare 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 uscite come questo possono però darvi un appoggio concreto qualora non vi ricordaste qualcosa qualora vi sfugga il modo in cui creare determinati effetti da poter consultare in ogni momento a casa nella vostra vita e avere comunque un sostegno pratico valido a mio avviso veramente valido naturalmente io per adesso ho solamente queste sette uscite che vi ho fatto vedere man mano nel corso del tempo man mano che mi arriveranno vi terrò sempre al corrente delle novità e allegherò all'interno delle lezioni di youtube del corso di disegno parte delle nozioni che si possono estrapolare anche da qua dentro o meglio se io tratterò di un argomento e mi accorgo che questo argomento è trattato anche da il manuale di Agostini io vi rimanderò a vedere anche i fascicoli che contengono le parti di cose che sto dicendo in modo che voi possiate avere anche un'idea di dove e come andare a prendere le cose e come un argomento che magari io tratti in maniera unitaria possiate trovarlo in maniera frammentata in più fascicoli quindi poi dovrete essere voi ad esumerlo e farne una sola argomentazione a me piacciono piacciono molto l'azienda è la di Agostini è una buona casa editrice una casa editrice seria quindi anche i contenuti che espone in questo caso non sono da meno dico in questo caso perché di questo stiamo parlando non sono da meno bene spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciate un bel pollice in su vi aspetto sempre su tutti i miei social facebook instagram e blog qua sotto nel box di informazioni vi metto i link per poter accedere anche agli altri social mentre io e Gabriele vi aspettiamo sempre sempre su 2Q1K il nostro secondo canale dove cuciniamo 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 la nostra cucina virtuale insieme al nostro figlietto vi aspettiamo qui su 2Q1K se volete cliccate qua sopra e accederete direttamente al canale basta parlare noi ci vediamo presto al prossimo video da Ombretta e d'arte per te è tutto arrivederci a presto